Passate Ragazzi, attenzione Ragazzi, attenzione Ragazzi, dovete far passare Ragazzi Eccoci Ciccino Fatta da un bacetto A Ciccino Dietro, 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 calma Giù dalla pedale 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 Sì, non è vero Ma lo fanno bene Amore api Che paese Che paioe! Davanti! Ragazzi se non vi sedete non iniziamo. Se non vi sedete non iniziamo. Bene, o vi sedete o non iniziamo e torniamo di nuovo indietro. Quindi per favore vi sedete. Davanti! Vi dovete sedere. Facciamo un video nostro e lo mettiamo sulle nostre reti. Se volete facciamo un video e lo mettiamo in live. Avetevi sedete tutti, va bene?